Due infrastrutture rimaste al pale che avrebbero bisogno invece di essere collegate. In primo piano Autoporto di Vittorio e Porto di Pozzallo, ma le istituzioni non raccolgono i nostri appelli, così la CNA per bocca dei suoi dirigenti, Giuseppe Santocono e Giorgio Stracquadani, cui fanno eco anche i colleghi di Pozzallo. Qualche settimana fa era stato anche lanciato l'allarma ai sindaci dei due centri, alla Deputazione Iblea e alla provincia regionale, con una segnalazione accompagnata dalle tesi di uno studio elaborato dalla Svimez sulle filiere logistiche territoriali. Strumenti nuovi e importanti per la CNA per rimettere in moto l'economia del territorio. Tutto però è rimasto lettera morta, affermo dalla CNA, e se le due infrastrutture non vengono collegate, in particolare ad una rete stradale adeguata, ogni sforzo per rendere competitivo Autoporto e Porto in questione rischia di essere vanificato e ci sono poi progetti, tra l'altro in via di definizione. Queste opere rimarcono i vertici di CNA di Vittorio e Pozzallo, anche se insufficienti, sono fondamentali per le due infrastrutture. Vorremmo capire, rimarca la CNA, se la deputazione regionale e la provincia hanno interesse a farle partire, se è vero che la potenzialità del territorio si sblocca, utilizzando i fondi europei per investimenti strutturali. Vorremmo capire, infine, se questi due impianti sono rientenuti realmente centrali per favorire la crescita di piccole e medie imprese. Grazie per la visione! Grazie per la visione!